allora benvenuti ragazzi benvenuti a un nuovo video è passato un po di tempo dall'ultima volta che ho registrato ci sono state anche di mezzo le feste quindi vi auguro intanto un buon anno se spero che abbiate passato diciamo delle buone feste e vi auguro un buon anno nel senso che possiate realizzare tutti i vostri propositi anche se io sono sempre dell'idea che comunque non bisogna mai fermarsi insomma l'anno nuovo è sicuramente un'occasione per costruire qualcosa di nuovo però bisogna sempre sempre lavorare e non giustificarsi semplicemente con l'anno nuovo perché poi sappiamo come va a finire molte volte comunque allora senza che ve lo sto a ripetere mille volte iscrivetevi al canale se non l'avete fatto la campanellina solite cose e se vi piace i contenuti che faccio supportatemi e cominciamo con il video di oggi allora oggi parliamo di un argomento che a volte fa un po soffridere perché molti si chiedono si fanno questa domanda e la domanda è che cosa fa un ingegnere strutturista cioè effettivamente un ingegnere civile con la specializzazione in strutture che cosa fa allora cerchiamo di rispondere a questa domanda ovviamente non risponderò solo questo vi darò anche tutta una serie di punti che vi vanno a spiegare cosa fa nel dettaglio strutturista e quali sono i processi che lo portano poi ad arrivare alla definizione di un'opera dall'inizio alla fine e quali sono appunto le sue manzioni voglio partire con una prima cosa che è quella di fare sempre la suddivisione tra la tipologia di professionista perché come voi sapete come vi ho già detto anche in altri video l'ingegnere può essere o un libero professionista o comunque lavorare in uno studio per una firma comunque di altri o collaborare anche e la differenza principale qual è che l'ingegnere strutturista libero professionista ha maggiori responsabilità quindi ha la gestione complessiva di quello che gli viene dato mentre una persona che fa l'ingegnere magari collabora oppure lavora in uno studio gli viene magari data una mansione di progettazione non ha la gestione completa questo non vuol dire che quella persona non sia competente a poter portare avanti l'intero processo però c'è questa differenza perché magari non è lui solitamente che mette la firma e quindi diciamo che c'è un pochettino di responsabilità in più da parte dell'ingegnere libero professionista questo è il primo punto che ci tenevo a un attimo a chiarire detto questo che cosa fa effettivamente l'ingegnere strutturista allora fondamentalmente l'ingegnere civile con specializzazione in strutture è quella figura professionale che segue la progettazione strutturale dell'opera in tutto il suo processo che cosa vuol dire strutturale vuol dire la parte diciamo detta in modo semplice dell'opera che va a resistere alle azioni che possono essere appunto azioni statiche o sismiche quindi il peso della struttura oppure le azioni orizzontali come il terremoto l'azione quindi del sismo il vento tutte queste azioni vanno a creare delle sollecitazioni sulla struttura e l'ingegnere strutturista è quello che va a calcolare dimensionare le strutture in modo che possano resistere a queste sollecitazioni quindi fondamentalmente questo è quello che fa l'ingegnere strutturista c'è sempre a volte questa confusione tra architetto ingegnere tecnico geometra quindi a volte vengono fuori delle cose un po' strane ma il concetto è questo poi dopo c'è la parte di progettazione e c'è la parte di direzione lavori quindi diciamo che l'ingegnere strutturista può seguire sia entrambe le cose quindi tutto il processo come vi dirò più tardi oppure può seguire solo ed esclusivamente la parte di progettazione e la direzione lavori la può fare un'altra figura ok quindi questo è diciamo quello che effettivamente fa poi possiamo fare una prima suddivisione su quelle che sono le opere che possono essere progettate dall'ingegnere civile strutturista partendo diciamo dalla quella che può essere più semplice andando verso quella più complessa l'opera più semplice è sicuramente la costruzione ordinaria quindi l'abitazione la casetta la struttura in acciaio piano il palco quindi tutte cose comunque che sono ordinarie non sono costruzioni straordinarie ok dopo dopo questa prima categoria possiamo avere invece le strutture le infrastrutture ok quindi per infrastrutture si intende tutto quello che serve appunto la pubblica viabilità la pubblica utilità quindi i ponti le strade i viadotti tutte queste strutture sono nella seconda categoria quindi quella delle infrastrutture e anche tutti quelli che sono diciamo edifici pubblici si possono includere in questa categoria perché comunque sono opere un pochettino più complicate da progettare poi abbiamo la terza categoria che è quella fondamentalmente delle strutture esistenti ok quindi c'è tutta la parte relativa alla progettazione degli interventi per la riqualificazione sismica delle strutture esistenti sismica dico sismica perché ad esempio qui in italia è il punto focale del lavoro sull'esistente è il la riabilitazione quindi sismi sismic retrofit delle strutture ed è la cosa focale poi ovviamente si progetta anche per che la struttura resista alle altre azioni però il terremoto come purtroppo spesso abbiamo visto in tanti casi è quello che crea maggiori problemi ok quindi terza categoria strutture esistenti che è un'altra categoria molto importante e può essere anche in questo caso molto complessa perché dipende dalla struttura con cui noi abbiamo a che fare perché se stiamo lavorando su una casa è un conto se stiamo lavorando su una chiesa o su un campanile o su un edificio storico del 1400 insomma c'è un po' di differenza quindi non è una cosa semplice anche questa ok quindi dopo questa prima suddivisione diciamo che l'ingegnere strutturista poi può lavorare a opere anche di una certa complessità e in questo caso entra in gioco delle figure che sono sempre appunto ovviamente ingegneri ma che sono specializzati quindi hanno una specializzazione in determinati campi questo per farvi qualche esempio può essere relativo a non lo so l'ingegnere del vento l'ingegneria regata ai ponti anche l'ingegneria sismica quando ci sono in gioco ad esempio i dissipatori gli isolatori sismici quindi sono tutte nicchie di cui l'ingegnere ordinario ovviamente con lo studio e l'esperienza può progettare anche lui questo tipo di strutture ma a volte soprattutto quando si tratta di strutture di una certa complessità si richiede il supporto una collaborazione di una figura esperta quindi diciamo che ci può essere un ingegnere che è esperto quindi va di per in quella nicchia lì ed è molto bravo a lavorare appunto perché ha avuto esperienza negli anni a fare questo tipo di strutture e questo è importante perché se si ha la possibilità appunto di lavorare con persone di questo tipo si può crescere e imparare anche in ambiti che sono più complicati che poi è il bello dell'ingegneria quindi se voi riuscite a lavorare a una commessa dove c'è non lo so l'azione dei pedoni su un ponte vedete come si calcola l'azione dei pedoni e le sollecitazioni che ne derivano e come andare poi a verificare la struttura sono tutte cose molto molto interessanti e legato a questo si può fare una suddivisione poi anche ad esempio non so mi viene in mente il calcolo di delle piastre di dettaglio quindi diciamo modellazioni locali insomma tutte cose che non sono immediate ma che devono essere fatte per determinate commesse e per cui si richiede il supporto l'esperienza di una persona che non è ordinario ok quindi diciamo che questo qui ricade comunque nelle nelle opere complesse e l'ingegnere può intervenire anche in questo caso quindi diciamo queste sono le categorie principali dove l'ingegnere strutturista può intervenire ora guardiamo quelli che sono i processi da quando viene data la commessa all'ingegnere fino a quando viene appunto realizzata l'opera quali sono i passaggi allora il primo passaggio ovviamente il committente che può essere appunto la persona privata o l'ente pubblico ti commissiona l'opera solitamente qui mi ricollego al secondo punto c'è già un studio un tecnico che si occupa della della progettazione architettonica dell'opera ok quindi solitamente ci viene commissionata l'opera si fa un sopralluogo sia che la struttura sia esistente che nuova quindi se è nuova si va a vedere l'area dove verrà costruita se esistente invece sopralluogo diventa molto importante e si va a vedere appunto la struttura esistente che ha bisogno del dell'intervento di di miglioramento sismico statico quello che è e su questo eventualmente posso fare un video a parte se vi interessa fatemelo sapere perché il processo di riabitazione delle strutture esistenti è una cosa non immediata e richiederebbe appunto un trattamento a parte quindi sopralluogo si va a vedere il posto dopo ci vengono forniti appunto dall'architetto gli elaborati architettonici e in base a determinati vincoli questo molto importante cominciamo la progettazione quali sono questi vincoli allora ovviamente il budget cosa importante bisogna sempre tenere conto della parte economica dell'opera ok poi i materiali perché dico i materiali anche questo è importante perché magari ci sono già dei materiali che ci sono stati diciamo messi come vincoli quindi è per questa struttura devi usare questo materiale ferro acciaio legno quello che è oppure ci viene detto non lo so è una struttura esistente quindi non puoi utilizzare quello che vuoi ma devi e questo dovremmo già saperlo anche noi devi utilizzare materiali compatibili con la struttura ad esempio soprattutto se è una struttura storica immaginatevi una chiesa o comunque un edificio che ha una determinata un determinato passato storico bisogna usare materiali compatibili materiali che comunque non vadano a impattare eccessivamente sulla struttura ok quindi budget materiali e ovviamente il vincolo architettonico quindi se ci viene detto che ci devono essere tot pilastri tot setti eccetera noi dobbiamo rispettare quello che ci viene detto come quello che è la forma architettonica della struttura in funzione di tutte queste cose l'ingegnere strutturista comincia la sua modellazione strutturale i suoi calcoli e appunto va applicare tutte le azioni che agiscono sulla struttura quindi fa una modellazione geometrica poi mette i materiali che sta usando poi mette i carichi e fa tutti i suoi calcoli e arriva alla progettazione dell'opera che cos'è fondamentalmente la progettazione dell'opera giusto per dirlo in parole semplici se io sto lavorando con una struttura in cemento ad esempio in calcestruzzo vado a definire quella che è la dimensione dei pilastri la dimensione delle travi quanto ferro metto in questi pilastri quanto ferro metto in queste travi quindi il calcestruzzo la classe del calcestruzzo che ci va quindi tutte le informazioni che poi devo andare in opera devo dare in opera per la realizzazione le vado a dimensionare stessa cosa vale per le strutture esistenti l'intervento che vado a decidere per rinforzare quella struttura lo devo andare a indicare progettare e disegnare quindi dopo infatti la fase ultima è quella poi di prendere quello che si è progettato e riportarlo su carta quindi si fanno delle relazioni tecniche e degli elaborati strutturali esecutivi quindi dei disegni ok che siano abbastanza dettagliati da permettere all'impresa che andrà in cantiere di realizzare le opere questo è molto molto importante sia che si tratti di esistente sia che si tratti di nuovo tutte quelle informazioni voi le dovete riportare su un foglio di carta in modo che siano chiare e leggibili poi ovviamente c'è la parte di direzione lavori quello che vi dicevo prima cioè una figura che va in cantiere che può essere l'ingegnere stesso o un'altra figura che fa appunto la direzione dello svolgimento dell'opera e questa figura ovviamente deve poi validare comunque questi elaborati e risolvere eventuali problemi se ci sono comunque seguire tutte le opere andare a controllare verificare che vengano messe le armature giuste gli interventi giusti eccetera questo diventa molto molto importante quindi si arriva alla fine ovviamente tutto questo materiale poi viene anche depositato presso gli enti preposti quindi le amministrazioni preposte che devono poi fare i controlli e poi viene dato al committente all'impresa per poter cominciare le opere di costruzione quindi questo è il processo diciamo spiegato abbastanza in sintesi di quello che fa un ingegnere civile strutturista quindi se avete qualsiasi tipo di domanda potete farmela nei commenti cercherò insomma di rispondervi però fondamentalmente quello che facciamo noi ingegneri è appunto cercare di valutare ed eseguire la progettazione della parte strutturale dell'opera in tutti i suoi ambiti e quando si esce un pochettino dall'ordinario come vi dicevo prima possono capitare tantissime sfaccettature diverse di progetti di cose di cioè vi faccio un esempio vi dicevo prima le strutture le strutture complesse quando vi capita di lavorare una struttura comunque non ordinaria e una volta ho dovuto fare la validazione di un progetto praticamente che riguardava un traliccio per telecomunicazioni quindi una struttura molto alta soggetta all'azione del vento in quel caso il calcolo dell'azione del vento non l'abbiamo fatto come si fa per un classico edificio con quattro mura alto due piani e mi ricordo che solo per calcolare l'azione del vento su questa struttura abbiamo impiegato due tre settimane solo a fare fogli di calcolo però per calcolare appunto tutta l'azione del vento il distacco dei vortici tutte queste questi fenomeni che si possono verificare e applicarli appunto al modello strutturale ci ha richiesto tutto questo tempo perché non è una cosa ordinari quindi questo è un pochettino il riassunto di quello che fa un ingegnere civile strutturista ovviamente maggiore è l'esperienza che voi acquisite col tempo e più riuscite ad andare più a fondo in questo elenco che vi ho fatto di categorie di opere l'importante è cercare sempre di seguire i passaggi e di non dimenticarsi che comunque la progettazione che sia fatta per una struttura diciamo banale o che sia fatta per una struttura comunque importantissima deve seguire un certo flusso perché in ogni caso il risultato che si deve andare a ottenere è quello di avere una struttura sicura nei confronti di tutte le azioni che siano statiche sismiche vento eccetera 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 e niente ragazzi questo è quanto spero che il video vi sia piaciuto e vi sia utile se avete domande fatemi nei commenti come sempre se vi è piaciuto appunto il video lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo ciao